Stasera torna su Telemantova la trasmissione Mantua Segreta. Tutti martedì sera Giacomo Cecchin ci accompagnerà alla scoperta di luoghi, storie e scorci della città e della provincia. Si parte con un omaggio alla storica visita di Mozart. E stavolta con Mantua Segreta vi portiamo sui passi di Leopold e Wolfgang Mozart nella Mantua del 1770. E' gennaio, c'è un freddo glaciale e però i Mozart frequentano la città, incontrano i nobili, mangeranno a Palazzo d'Arco, passeranno per il ghetto ebraico e soprattutto arriveranno qui al Teatro Bibiena dove ci sarà il famoso concerto di questo genio adolescente. Noi nella puntata di oggi proviamo a invitarvi a mettervi gli occhiali del 1700 perché così potrete guardare una città che cambia sotto i vostri occhi e vedrete che forse Mantua non è cambiata così tanto ma che ci sono tantissime storie e tantissimi segreti da scoprire e da raccontare.